La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al sogno di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell'umanità. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, Papa Francesco è tornato a parlare di famiglia, ribadendo che la Chiesa continua a proporre il matrimonio nei suoi elementi essenziali, prole, bene, deconi, unità, indissolubilità, sacramentalità, non come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli centrati sull'effimero e sul transitorio, ma come una realtà che può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. Pensando alle tante famiglie ferite dal peccato e dalle prove della vita, così come pure al Cammino Sinodale, che ha ribadito che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione, il Pontificio ha poi sottolineato che la Rota Romana è il Tribunale della Famiglia e il Tribunale della Verità del Vincolo Sacro. La Chiesa è e deve essere la famiglia di Dio. E proprio perché, madre e maestra, la Chiesa sa che, tra i cristiani, alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, trascurata, non formata, poco educata o dimenticata. Ebbene, arriva a dire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina del sempre, può essere minato solo a livello naturale.